Buongiorno a tutti, allora, 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 inizia la nottatona del gigione per quanto riguarda le schedine, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande. Partiamo subito col campionato spagnolo perché gli orari sono un po' sballatelli come si suol dire perché c'è il campionato spagnolo alle 14. Il campionato tedesco alle 15.30, il campionato inglese alle 16, il campionato francese alle 17 e il campionato italiano alle 18. Sì, detto tutto perché c'è spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano perché ci sono stati gli anticipi ieri sera e quindi... Bene, 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 partiamo col campionato spagnolo che inizia subito con un bel Celta Vigo Las Palmas. Si affrontano il Las Palmas dodicesimo e il Celta Vigo diciassettesimo appena sopra, il Limitar del Bosco, come direbbe qualcuno. E ragazzi miei, un bel pareggiotto potrebbe anche andare bene, la Spalmas non ha granché da chiedere alla classifica. È tranquillo, 38 punti, 13 punti in più del Cadice, che è terz'ultimo. Mancano sette giornate, bel pareggio, pareggio per uno non fa male a nessuno. Però, ragazzi miei, si gioca in casa del Celta Vigo. Se si gioca in casa della Spalmas avrei detto 1x o 1. Ma visto che si gioca in casa del Celta Vigo e proprio perché la Spalmas magari va in gita, è possibilissimo. Farei 1x. Non rischio l'uno, anche se a 1,73 mi acchiapperebbe, visto quello che è successo ieri sera. Che mi sono girate anche abbastanza i testi, perché uno sta lì anche a sceglierla la partita. E poi Svrang lo prende in quel posto. Tutte giuste. Cosa vado a sbagliare? L'attretico Bilbao che pareggia come un curucu con una squadra che non è che ha granché da chiedere al campionato penultimo. Che è il buon Granada. Il Granada penultimo. E adesso l'attretico Bilbao, Svrang, non va in Europa. Così impara. Comunque, Celta Vigo, la Spalmas 1x. Raio Vallecano, Osasugna. 1-2. Perché il pareggio non servirebbe, ne abbiate a Giovanna. È una sfida tra il Raio Vallecano sedicesimo, che non ha granché da chiedere al campionato. Mentre invece l'Osasugna ha bisogno di punti, affamato di punti, si fa per dire. Perché qualche chansina ancora ancora un po' dura. Sei punti dal Betis, ottavo. La vedo dura. Perché ecco il fatto che le italiane hanno le cinque squadre. E non penso che le spagnole riescano ad avere le cinque squadre in Champions. Mi sa che ci sarà qualche altra squadra, o inglese, o tedesca, che porterà la loro nazione. Vedremo. Però male che vada, proprio al massimo puoi arrivare ottavo. C'è il Betis a 45, l'Osasugna a 39. Questa è una partita che francamente... Pareggio non serve a niente, ma potrebbe venire fuori anche uno squallido 0-0. Perché ormai non hanno granché da chiedere al campionato né una né l'altra. Raio Vallecano ha sei punti di vantaggio. Quindi ero tentato a mettere l'1-2, ma a sto punto metto un 1-X al mio rischio e pericolo. O un IS-2, fate vobis. Partita che non è carne né pesce, non c'è un senso. Due squadre che ormai devono arrivare a fine campionato. Quindi dico dai 1-X, diamo fiducia alla squadra di casa. Valencia-Real Betis. Questa si fa più interessante. Perché la sfida tra la settima e l'ottava, un po' come ieri sera, c'è stata la sfida tra Eintracht e Augsburg. Che mi ha fatto temere il peggio e poi è finita 3-1 libidine. Cioè un venerdì sera che ti escono quattro gol nel campionato tedesco. Ma libidine? Libidine! Ma nel vero senso della parola. Comunque Valencia-Real Betis, appaiate a 31 punti, eccetera, eccetera. Si stanno giocando l'Europa. Che vedevo di? Che vedevo di? Vedico 1-X, do fiducia anche qui alla squadra di casa. Girona-Cadice 1. A meno che anche il Girona vuol fare la Curucu come l'Atletico Bilbao, ma non penso. E quindi penso Girona-Cadice 1. Getafe-Real Sociedad. Real Sociedad in sesta posizione. Grande occasione per avvicinarsi all'Atletico Bilbao che ha fatto il Curucu col quinto posto. E lì quinto vi vai a pareggiare come un Curucu, potrei andare a un punto dall'Atletico Madrid. Adesso rischia addirittura che l'Atletico si porti a più 6 e tu te ne vai in Europa lì come un Curucu. E intanto però la Real Sociedad ha l'occasione per avvicinarsi, portarsi a meno 5. Quindi per cui metto, a mio rischio e pericolo, metto un bel 2. Alberia-Villa-Real. Allora, il Villareale non è più grande, non è che ha grandi chance di raggiungere il Betis o di raggiungere il Valencia. È lontano 6 punti. Sì, potrebbe tentarci, però... Vi dico X, visto che l'Almeria ultimamente sta bloccando tutti, sta pareggiando con tutti. X o X2, ecco. Perché ultimamente l'Almeria veramente non vince, ma non la riesce neanche a battere. Continua a pareggiare, a rompere i testi. L'Alaves-Atletico-Madrid. L'Alaves è il quattordicesimo, 32 punti, più 7 sul cadice, terz'ultimo. 2. Anche perché ormai l'Atletico non ha più nulla da chiedere a nulla. È fuori da tutto, è stato eliminato. La Champions deve pensare a mantenere la sua posizione, la sua quarta posizione, visto che l'Atletico Bilbao, che ha fatto il Curucu, però è lì a tre punti. Non è che possono dire, l'avevamo pareggiato, possiamo regalare i punti all'Alaves, quindi 2. Poi abbiamo la sfidona. Real Madrid-Barcellona, ragazzi miei, Real Madrid-Barcellona 1-2. Pareggio inutile. Manterrebbe le distanze invariate. Andrebbe benissimo al Real Madrid. Barcellona deve andare a Madrid e provarci. Poi perdi, fai la fine del Girona anche tu, ne prendi quattro. Però vedendo il Real Madrid di questi tempi, che è molto braccino corto, non sta lì, sornione. Magari. Se anche tu stai lì, sornione, vedete chi dei due è più sornione dei due. Magari svram, primo calcio d'angolo, gol del Barcellona. Sorpresona, vittoria del Barcellona-Madrid. Non penso sarà così, però. Penso sarà una partita bella tosta, bella intensa. Quindi 1-2. Infine, Siviglia-Maiorca. Che è Siviglia e non Betis. Siviglia tranquillo a 34 punti. Maiorca a 31 punti. Questa è la classica partita da 1-X. Col Siviglia che magari proverà a vincere. Poi il Mallorca si difende, il Siviglia si scazza e dice vabbè, intanto a noi che ci abbiamo più niente da chiedere al campionato. Va bene il pareggio, ci prendiamo un altro punto in più, ci allontaniamo dalla zona, maggiormente dalla zona pericolo e ci prepariamo poi per l'anno prossimo per tornare a fare il Siviglia. e non la squadra che è lì al quattordicesimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo a posto che non si può vedere. Tredicesimo. Dai. Il Siviglia a tredicesimo, il Betis nono, ottavo. Dai. Non si possono vedere queste cose. Che tristezza. Proseguiamo con la scheda in alternativa. Selt Amigo, la Spalmas. Andiamo di gol. Dai, un bel 1-1 che così va bene per tutti. A 1,88. Fa anche libidine col numero. Raio, Vallecano, Zazzugna. Eh, questo è più difficile, questo è più tosta. Siccome a me piace il rischio, vi dico over 2,5 a 2,58 che non uscirà mai, però se esce, libidine. Valencia, Real Betis un bel gol a 1,95 mi acchiappa veramente. Girona, Cadici, over 2,5 a 1,65. O, se preferite, vi piace anche qui il rischio, eccetera, eccetera, per far contento a un mio follower che mi diceva, Gigi, non metti mai il gol casa, gol ospite. Un bel gol ospite del Cadice, data 1,67, buttato lì, proprio tanto per lanciare il dado. Proseguiamo con Getafe e Real Madrid. E qua, per stare sulla stessa falsa riga, fatemi vedere, per curiosità, la curiosità uccide il gatto, dicevano quelli là. Un bel gol casa di Getafe e Real Sociedad, non Real Madrid, la società, Getafe e Real Sociedad, gol casa. Buttato lì a 1,68, così, in amicizia. E facciamo già che... Non ci posso credere. Non ci posso credere. Addirittura. Ah, però, niente, come l'ho detto, volevo mettere il gol dell'Alberia, paga un cazzo, scusate il francesismo. Gol casa della... Eh, sì. A meno che non ho sbagliato la riga. Sono rimasto male, ragazzi. Eh, sì, eh sì. Scusate. Il bronco di Riace ci è rimasto male anche lui. A 1,25 è dato il gol dell'Alberia. Minchia. Quindi Alberia-Villa Real, che mi fa anche l'imbidine. Gol più over, guardate. Faccio la follia. Faccio il multi... Il combo. Gol più over. Alberia-Villa Real, gol più over. Dato a 2,25. Anzi, addirittura a 2,55. Ah, no, perché ero over 3,5. Dicevo, la miseria. No, eh, 1,75. Gol più over di Alberia-Villa Real a 1,75. Mi acchiappa, mi acchiappa veramente. Al-Avest-Atletico-Madrid. Eh, questa è interessante. Questa ci piace molto. E direi un bel over 2,5 a 2,10. Che anche questa è proprio arrischiatissima. E Real Madrid-Barcellona, ragazzi miei. Qua c'è il combo è d'obbligo. Perché qua un 2 a 1, un 1 a 2, punteggi così, belli aspetto. Edì, per cui gol più over a 2. No, ho sbagliato, scusate. Scusa se è poco. Eccoci qua. Eh, no, perché... No, ma non è possibile. Ah, 1,77. Gol più over a 1,77. Real Madrid-Barcellona. Over 2,5. Naturalmente non facciamo i golosi. Infine, Siviglia-Maiorca. Io direi che Siviglia-Maiorca al gol ci sta tutto. Un bel gol, bello, tranquillo, felice, contento. A 2,15 già mi fa libidine. Quindi, Siviglia-Maiorca, gol. Bello secco. Sprung. Detto questo, ragazzoli, adesso vado a fare anche gli altri. Piano piano li facciamo tutti e 5. Così 9, 9,5, 10, 10,5, 11. Avete tutti le proposte. Detto questo, ciao.